Questa banda in buona sostanza si era resa responsabile prima di taglieggiare questa gioielleria dove, come ho detto, era stato interalmente ripulito tutto quello che era contenuto all'interno per danni superiori ai 200.000 euro. Si erano recati all'interno dell'abitazione della proprietaria, nottetempo, senza che questa se ne potesse accorgere. Le avevano rubato dall'interno della borsa diverso denaro contante, ma soprattutto le chiavi e tutto l'occorrente per poter aprire in sicurezza e disinibire i sistemi di allarme che erano installati all'interno della gioielleria. Quindi questo gli consentiva in buona sostanza nella stessa notte e dopo, tra l'altro, aver anche rubato un'autovettura per compiere in piena sicurezza gli spostamenti dall'abitazione al locale di agire in maniera pressoché indisturbata. Gli stessi erano entrati nel locale, hanno asportato quanto possibile dopo essersi chiusi all'interno o azione delittuosa, si sono dati alla fuga. Determinante un'impronta lasciata durante il colpo? Direi sicuramente determinante come sviluppo dell'attività, come principio, perché poi mi piace sottolineare che dopo questo iniziale riscontro positivo che ci consentiva di arrivare all'identificazione di uno degli autori, sono state fatte tutte quante una serie di altre attività tradizionali e tecniche che hanno consentito anche di documentare le responsabilità di un altro soggetto che come vi ho detto è stato anch'esso tratto in arresto.